Chissà che in futuro una delle auto della Formula 1 non possa provenire dalla vulcanica mente di questi ragazzi. Sono i 12 studenti del liceo scientifico Respighi di Piacenza che hanno sbancato la semifinale della competizione F1 in school, andata in scena a Fiorano Modenese, campionato di Formula 1 in miniatura per le scuole. Ogni team deve progettare e realizzare una vettura ad aria compressa capace di correre su un tracciato di 24 metri. Alla semifinale, il Respighi è stato capace di piazzare due squadre sul podio, la AMX arrivata prima e l'AMR Team è giunta al terzo posto, un doppio progetto vincente che ha spalancato le porte della finale che si terrà al Dallara Academy a Varano de Melegare di Parma. Dobbiamo realizzare delle micro vetture simili a quelle di Formula 1 che andranno a gareggiare su un rettilineo di 24 metri e in più c'è tutta una parte di marketing dove sostanzialmente dobbiamo creare la nostra come scuderia. Abbiamo passato le semifinali, adesso siamo pronti per fare la finale nazionale il 16 giugno in Dallara. Se vinceremo anche la finale nazionale andremo alle finali mondiali a Riyadh che si terranno l'anno prossimo. Abbiamo la parte della macchina, quindi viene valutata a livello di gara, tempi di gara, la macchina, come corre e poi vengono valutate anche tutto il resto. Partendo dal marketing bisognava creare delle pagine social, abbiamo fatto un sito, è stato un progetto dove la lingua principale, la lingua ufficiale della competizione era l'inglese. La macchina è disegnata seguendo un regolamento molto stretto. Noi ovviamente abbiamo scelto un design, una linea che nessuno ha scelto all'interno di questa competizione perché abbiamo provato a differenziarci dagli altri. Abbiamo scelto una linea che non prosegue con le caratteristiche pance che hanno le vetture da Formula 1 ma con pance molto più squadrate per aiutare i flussi in entrata e uscita. Il main point della nostra vettura è il fatto di cercare di carenare in qualsiasi modo le ruote anteriori e posteriori che come ben sappiamo sono il punto principale di resistenza aerodinamica in un'autovettura.